Com'è il tuo rapporto con Roma, il rapporto con l'Italia? Il mio rapporto con l'Italia è fantastico, in particolare con Roma, che considero un capolavoro psichedelico. Proprio come ho scritto stamane su Instagram, mi guardo in giro e dico, ma com'è possibile? È incredibile girare in auto in questa città e ogni volta che ci torno sono stupito. E sì. Mia moglie è molto gelosa del fatto che sono a Roma ed ho avuto anche un day off. Lei non è qui, è dovuta tornare a Londra. Una volta hai detto che se fossi nato in Italia probabilmente non avresti scritto canzoni. È vero, probabilmente sarebbe andata così. Avrei passato le mie giornate andando in giro in scooter con bellissime ragazze sedute dietro. Sarei andato a vedere le partite di pallone e sì, probabilmente non avrei mai trovato il tempo per scrivere canzoni. C'è un motivo per il quale ci sono così tanti gruppi e così belle canzoni che arrivano da Manchester, perché piove tutto il tempo e stai sempre chiuso in casa e quindi scrivi canzoni. Come consideri il processo creativo con il quale nasce una tua canzone? Hai un approccio, diciamo, di carattere artigianale nel modo di comporre oppure qualcosa di più inafferrabile? Ricordo Lee Mavers, ad esempio il cantante di El A's che vengono da Liverpool, cantava Melody Always Find Me, ovvero la melodia mi trova sempre. Sei d'accordo? Sì, certo, la melodia è la cosa in assoluto più importante, certo, anche le parole, ma per me vengono dopo, mi interessa di più il suono, l'aspetto della canzone in generale. Il mio processo creativo negli anni non è mai cambiato, mi metto lì con la chitarra e provo a scrivere qualcosa. Qualche giorno non scrivo nulla, altre volte scrivo un paio di canzoni. Non posso dire di essere un artigiano né di essere guidato dall'ispirazione, è un po' un insieme di tutto questo. È vero che stai già lavorando ad un nuovo album con un produttore misterioso, che il nuovo album avrà un suono molto diverso rispetto a tutto quello che hai fatto fino ad oggi? Sì, è vero, per quello che ho fatto fino a questo momento da un punto di vista di suono sarà diverso, ma rimarrà comunque un disco molto melodico. Il modo con il quale sto lavorando è molto difficile, è un modo decisamente nuovo per me di lavorare, e lo sto trovando in effetti complicato o comunque molto lento. Non è come in passato, scrivi le canzoni, entri in studio e registri. No, molto del lavoro si fa proprio in studio e quindi questo processo sarà molto lungo, ma al momento il risultato è molto buono. Dolo Becchi Nanger è forse la canzone più bella che hai scritto. Ricordi quando l'hai scritta e quando l'hai suonata la prima volta? Avevi subito e immediatamente realizzato che era una canzone destinata a fare storia? Certo che me lo ricordo, l'ho scritta a Parigi dopo un concerto, mi ricordo che stava piovendo e mi ricordo che ero appena tornato in un albergo ed ho scritto la canzone e le parole e subito, dopo un paio di giorni, l'ho suonata dall'avvivo. Se avessi realizzato in quel momento che dopo vent'anni sarebbe diventata una delle canzoni più popolari al mondo, probabilmente non avrei mai finito di scriverla, avrei continuato a cercare di farla diventare sempre più perfetta e una canzone scritta in una notte è stata la gente a farla diventare speciale, non io. È diventata una canzone universale, ci sono così tante persone che vengono da tutte le parti del mondo con culture diverse tra loro che amano alla follia questa canzone, la cantano in coro. Ecco, vorrei poterti dire di essermi seduto su una sedia con la chitarra e di aver deliberatamente scritto quella canzone, che sono un genio, eccetera, eccetera, ma non posso dirlo, è venuta così e basta. Come hai scelto le canzoni da mettere in scaletta nei concerti? Soprattutto come hai scelto quelle degli Oasis? Ci sono stati cinque singoli dal primo album e quindi suonerò questi e poi suonerò cinque, sei canzoni del nuovo album. Per quello che riguarda le canzoni degli Oasis, non puoi stare lì a lottare per decidere quali canzoni mettere in scaletta. Ogni volta c'è qualcuno che dice che hai suonato questa canzone e non quell'altra, capisci cosa intendo. Quindi alla fine suono quelle che io voglio suonare e non suono quelle che la gente vuole ascoltare e sembra che la cosa funzioni. A parte il fatto che non suonerò The Ballad of the Mighty Eye perché è una gran rottura, ci sono troppe parole dentro, non riesco a ricordarle. È una canzone che mi piace molto. La cosa strana è che all'inizio di questo tour non mi piaceva cantarla, addirittura la odiavo. Non riuscivo ad immaginare di cantarla tutte le sere, mi faceva essere triste. Eppure a me piace quella canzone. E adesso la cosa si è ribaltata. Amo quella canzone e odio il fatto di non riuscire a cantarla. Mi piace sul disco. Quando passa la radio penso sempre che grande canzone sia. Magari potresti cantarla con un leggio. No, questo è davvero inaccettabile. Solo i vecchi fanno questo. No, 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 solo i vecchi fanno questo. Onestamente, quante possibilità ci sono? Diciamo da 1 a 10 che si riuniscano gli Oasis. Uno. Anzi, forse l'1% di possibilità che accada. Credo che debbano verificarsi delle circostanze straordinarie perché questo accada. Innanzitutto artistiche. I soldi non mi interessano. Non ho bisogno di soldi. Non ho bisogno di vendere dischi. Al momento non vedo i motivi perché ciò accada. Almeno questo è il mio punto di vista. Cosa farai nei prossimi mesi, in questa estate? Quali sono i progetti futuri? Avrò agosto, settembre ed ottobre di riposo. Starò con la mia famiglia, poi farò alcuni concerti acustici in giro per l'Europa. Poi sarò al riposo nel periodo di Natale. Il prossimo anno partirò per il Sud America, Australia, poi ancora in America, UK e ancora Europa. No, entrerò in studio per il mio nuovo disco tra circa cinque settimane. Ravorerò in studio e completerò già qualcosa entro la fine dell'anno. Insomma, spero di finire tutto entro la fine dell'anno. Come è la tua relazione con l'Italia, soprattutto con Roma? La mia relazione con l'Italia è fantastica. Ho sempre amato. E Roma in particolare è come un masterpiece psicodellico. Come scrivi questa mattina. Sì, sicuramente. Ho guardato e pensato, ma non è incredibile. Quindi, vedete tutti i bambini e non mi ha mai capito. Questa volta che mi arrivo, ho pensato, wow. Quindi, mi piace. Ma mia famiglia è molto orgoglosa di essere qui e ho un giorno dopo. Non c'è qui? No, non c'è qui in Londra. Una volta che hai detto che se sei nato in Italia, non avrei mai scritto buoni cani. Perché? Probabilmente, sì. Sì, probabilmente saremmo solo in un scooter, in shorts e flip-flops, con una bella bella ragazza sull'interno, cominciando pasta e guardando football. Probabilmente non avrei mai avuto il tempo di scrivere cani. C'è un motivo per cui tantissimi grandi cani sono da Manchester, perché è f***ing che fa sempre, quindi sei all'interno. Quindi devi fare qualcosa. Come è il tuo processo creativo quando scrivi cani? Do you considerate yourself più un craftsman in la forma di scrivere cani? o, come diceva in una canzone, Lee Mavers, il cantante di L.A., la melodia mi ha sempre trovato? Sì, la melodia è la cosa più importante. È una cosa più importante. Non direi che sia un artista, non direi che sia un lavoro solo per l'inspiration, faccio un po' di tutto. È vero che stai lavorando su un nuovo album con un produttore misterioso e è vero che si suona completamente diverso da gli album che hai fatto nel passato? Sì, da quello che ho fatto al momento, sonico si suona diverso, ma sarà ancora molto melodico e tutto questo. Ma la forma che ho lavorato è molto difficile, è una nuova forma di lavorare per me, e ho trovato molto difficile, o molto lentamente. Quindi è come scrivere e ricordare mentre ti fai, quindi non c'è nessuno di scrivere tutte le cani e le ricordate, che ti fai fatto nel studio. Quindi è molto più lungo. Ma i risultati, al momento, sono abbastanza buoni. Dolly Back in Anger è magari la migliore canzone che hai scritto. Ricordatevi quando hai scritto per la prima volta, quando hai performato per la prima volta? Ho scritto in Parisi, dopo un show una notte. Io mi ricordo che era riuscito, e mi ricordo che io ero qui nel hotel, e ho scritto la canzone, e ho scritto le parole, e non ne pensavo nulla di questo. Un paio di giorni dopo, ho spiegato, e non ne pensavo nulla di questo. No, se io aveva realizzato allora, che 20 anni dopo, che sarebbe diventata una grande cosa, io non avrei mai finito, perché io sarei sempre cercato di perfetto e riuscire. E' stato un song che ho scritto una notte una notte. La gente ha fatto questo, non me. che mi ricordo che sia un tipo di verità universale, che tantissime persone, da tantissime persone, da tantissime culturali in tutto il mondo, amo questa canzone, e amo cantare questa melodia. Quindi c'è qualcosa da lì. Io vorrei dire che ho sentito e l'inventato, e che sono un genio, e bla, 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 bla. Ma la testa è venuto. Come hai scelto le cani per giocare in concerto? Especialmente come hai scelto le cani Oasis? Beh, c'erano 5 singoli dal primo album, quindi ho scelto queste. E poi guarda tutte le cani che ho scelto l'ultima volta. Non ho scelto alcune di queste, perché cosa è il punto? E poi ho scelto di giocare, magari 6 o 7 offi il mio nuovo record. È un problema. Certo, è un problema. Si possono costruire con setlisti, cosa da spiecare, cosa non si spiecare. Perché io vedo le persone che quando mi spiecare, perché non mi spiecare tutto l'altro? Non mi spiecare, non mi spiecare tutto l'altro? Ma non mi spiecare. Quindi, I play what I want to play and I'll play what people want to hear me play and then it seems to be going down well though no it's a fucking pain in the arse there's too many words oh for me for sure yeah there's too many words I kept forgetting the words and I don't know I fell out of love with it this is a strange thing when we first started this tour I fucking hated in the heat of the moment I fucking hated it I couldn't stand playing it every night it used to make me sad and I loved Ballad of the Mighty Eye and the roles are reversed now I fucking love heat of the moment now and I fucking hate Ballad of the Mighty Eye I love it on the record do you know what I mean it came on the radio the other day and it was like fucking really sounds amazing but to play it's a fucking bastard no can't do that no 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 that's not allowed that's not allowed no 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 only old men do that honestly how many possibility there are in the future to reform the oasis oh one well probably there's a one percent chance it might happen but I don't I don't think so there would have to be extraordinary circumstances because I wouldn't do it artistically I don't need the money I don't need the record sales I can't think of a reason that I that I would that I would look to do that what would be the point I don't know I don't know what the point would be what will you do this summer what are your future plans I've got August September and October off with my family and then I do some acoustic shows around Europe and I get Christmas off and then I go to next year go to South America Australia back to America back to the UK back to Europe will you enter in the studio for the new album at the end of 2016? I will enter the studio for my new album in about five weeks I'll do some work on it before the end of the year I'm hoping to get it finished by the end of the year